Con il decreto semplificazioni c'è qualche novità per il bollino blu dell'auto. Sentiamo Rossella Santilli. Il bollino blu, mi tocca o non mi tocca? Tra i titolari delle miliofficine romane, questa stessa domanda provoca però irritazione e rabbia. E se i controlli non si fanno, che ne facciamo di questi? Eccoli, centinaia di tagliandini datati 2012, acquistati dai meccanici con giusto anticipo, pronti per essere attaccati sui truscotti delle auto che devono passare il controllo dei gas di scarico. Ma il decreto semplificazioni del governo Monti prevede l'unificazione di revisione e controlli dei gas. E allora? I bollini già acquistati e carta straccia. Ogni tagliando è costato 1,24 euro e l'investimento per ciascun autoriparatore è stato in media di 4.000 euro. Quanti bollini le sono rimasti sullo stomaco? Diciamo che questi saranno circa 150, tra bollini delle moto, che facciamo sia bollini moto che bollini auto. E adesso che ne fa di questi? Questi, eventualmente, l'Adec, l'agenzia delle mobilità che gestisce il bollino blu, dice vi riterete, buttate. Lei quanto ha speso? E calcoli che ogni pacchetto in fase, questi che ha il pagamento, sono 124 euro, perché ne uno è 24 l'uno. Mentre quelle delle revisioni, che eventualmente sono ancora in uso, sono 174 euro, perché sono pacchi da 100. Quindi la spesa... 1,24 a bollino. Ma noi abbiamo sia questi del 2012, che ormai sono utilizzabili, che le rimanenze dell'anno precedente. Noi abbiamo chiesto al Comune di Roma e all'Agenzia della Mobilità che ci deve almeno risarcire il costo dei bollini. E loro per il momento hanno risposto... Sono andato io personalmente a parlare con questi signori e mi hanno detto no, no, i bollini, gli devo dire, c'è i bollini, ve li tenete, il Comune non risarcisce i soldi, non vi risarcisce perché non ha soldi. Ci sono dei colleghi che, non c'è entri di revisione, diciamo officine normali che facevano bollino blu, che per continuare a fare bollino blu con le nuove normative hanno dovuto fare un aggiornamento all'Euro 5. Cioè, chi ha speso soldi per fare l'aggiornamento è addirittura chi ha comprato attestature nuove. E adesso che se ne fa? Niente. Che non le possono proprio usare. Dal Campidoglio qualche contatto è arrivato? Sì, abbiamo avuto dei contatti con l'assessorato all'ambiente, dove inizialmente, devo dire, che non ci ha preso in considerazione. Ci abbiamo avuto un altro incontro che ci hanno chiamato, mi sembra, la settimana scorsa, nel fine dei giorni fa, dove abbiamo esposto tutte le nostre problematiche e loro ci dovevano far sapere qualcosa. Ad oggi ancora ci hanno fatto sapere nulla. La situazione è davvero ingarbugliata e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha già in mente una classation, ma intanto si ragiona nelle officine anche su un altro punto. Il decreto prevede che il bolino blu venga fatto solo al momento della revisione del mezzo, sia a quattro che a due ruote, quattro anni dopo la prima immatricolazione e ogni due anni nei periodi successivi. Cresceranno i livelli dell'inquinamento a Roma? Sì, non dico cresceranno, ma rimarranno come erano prima, perché essendo molto vecchi ci sono molte macchine che poi sono state trasformate a GPL, perciò camminano a gas e sono regolati, però tanti camminano anche a benzina.